da venerdì 21 ottobre a martedì 25 alluogo a milano host 2011 il salone internazionale dell'ospitalità professionale è l'atteso appuntamento biennale del settore orecca che riunisce gli operatori specializzati nel mercato del pasto fuori casa host è il luogo dove le sinergie di diversi settori orecca possono intrecciarsi tra loro e favorire opportunità di business per tutti gli operatori sei i settori presenti ristorazione professionale pane pizza pasta gelateria e pasticceria hotel e spa di specifico interesse per il vending i settori destinati al caffè e alle macchine per caffè in essi si esprime tutta l'eccellenza italiana non solo per il prodotto in tazza ma anche per la tecnologia delle macchine di cui l'italia è maestra nel mondo un calendario di eventi mirati ai diversi settori arricchisce le esposizioni convegni corsi performance e degustazioni di prodotti nonché campionati che metteranno a confronto le abilità di operatori provenienti da tutto il mondo all'interno della fiera per il settore del caffè è stato creato il coffee village dove si terranno corsi e seminari sui diversi aspetti del caffè in quanto materia prima e prodotto in tazza si potranno assaggiare ben 15 miscele diverse messe a disposizione da altoga l'associazione lombarda dei torrefattori si assisterà inoltre a una gara di velocità nella preparazione del caffè e alla premiazione della tazzina perfetta con la consegna della prestigiosa golden cup tante le aziende presenti bianchi vending group and and w global vending saeco vending vendor plus rea vendors oran fresh faema caffita e tante le torrefazioni pascucci berniano lavazza mocador ausbrand mauro moac haiti per citare solo qualcuna delle 1500 aziende presenti appuntamento dunque a fiera milano dove la troupe di vending tv sarà presente per realizzare i servizi dedicati alla manifestazione